Una processione per ricordare lo spirito missionario della Compagnia di Gesù, con sette lampade accese a rappresentare la Curia e le conferenze mondiali, davanti all'icona della Madonna della Strada, invocata dai Gesuiti prima di partire in missione. La liturgia di ringraziamento presieduta dal primo Papa Gesuita della storia nella Chiesa di Gesù, in occasione del 200esimo anniversario della ricostituzione dell'ordine fondato da Sant'Ignazio di Loyola, è stata ricca di segni. I membri della Compagnia, soppressa nel 1773 da Papa Clemente XIV e ricostituita nel 1814 da Pio VII, hanno rinnovato le promesse di fedeltà a Dio e confermato la loro vocazione, discernimento, missione, servizio e totale affidamento alla volontà di Dio. Come generale della Compagnia, padre Lorenzo Ricci, che con i confratelli visse il trubamento della soppressione. Davanti alla perdita di tutto, perfino della loro identità pubblica, non hanno fatto resistenza alla volontà di Dio, non hanno resistito al conflitto cercando di salvare se stessi. La Compagnia, e questo è bello, ha vissuto il conflitto fino in fondo, senza ridurlo. Ha vissuto l'umiliazione con Cristo umiliato, ha obbedito. Non ci si salva mai dal conflitto con la furbizia o con gli stratagemmi per resistere. Davanti all'umiliazione, ha ricordato Papa Francesco, padre Ricci ha preferito vivere il discernimento della volontà di Dio, il solo che salva dall'egoismo e dalla mondanità, e si è riconosciuto peccatore. È questo l'atteggiamento giusto per ricevere la consolazione, perché Dio ci vuol bene e ci salva. A volte il cammino che conduce alla vita è stretto e angusto, ma la tribolazione, se vissuta alla luce della misericordia, ci purifica come il fuoco, ci dà tanta consolazione e infiamma il nostro cuore affezionato alla preghiera. La fiamma della maggior gloria di Dio, si è augurato il Papa, anche oggi ci attraversi, bruciando ogni compiacimento, perché la notte e il potere delle tenebre sono sempre vicini, e anche la chiesa, barca di Pietro, può essere sballottata dalle onde come fu la nave della compagnia. E i gesuiti, ricordava Pio VII, ricostituendo l'ordine, devono essere rematori esperti e valorosi. Remate dunque, remate, siate forti, anche col vento contrario. Remiamo a servizio della chiesa, remiamo insieme. Ma mentre remiamo, tutti remiamo, anche il Papa rema nella barca di Pietro, dobbiamo pregare tanto, Signore salvaci, Signore salva il tuo popolo. Il Signore, anche se siamo uomini di poca fede e peccatori, ci salverà.